Weeeh! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto, supporta un creatore ed inserisci XIODARONE! DAIE! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video Io sono XIODAR e ragazzi abbiamo le nuove sfide Replay vs Slime con la patch 11.40 E una di queste sfide vi chiede ovviamente di distruggere Barili succosi, camion succosi o silo succosi Non è assolutamente difficile Andate a Putrito Pantano ragazzi E come sto facendo io Molto tranquillamente potete distruggere i barili che trovate in giro Potete distruggere i silos che trovate là in fondo O potete semplicemente andare verso le posizioni dei camion Insomma ragazzi sfida super facile Vi ricordo per tutte le soluzioni alle sfide Tenete attivata la campanella e controllate il canale Ciao! Non parte l'altro Sorry Ciao! 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 Grazie per la visione!